La Messa, preghiera per eccellenza, momento privilegiato e dialogo concreto che porta all'incontro con Dio. Papa Francesco, nella catechesi dell'udienza generale celebrata in piazza San Pietro davanti a migliaia di fedeli, ha suggerito spunti per poter comprendere il valore e la bellezza della celebrazione eucaristica. Fondamentale innanzitutto imparare a raccogliersi in silenzio insieme a Gesù, ricordando che la Messa non è il momento delle chiacchiere, non è uno spettacolo, ancora riuscire a chiamare Dio con il nome che gli è proprio, cioè Padre, avere fiducia in Lui, confidenza, come un bimbo con i propri genitori, infine lasciarsi sorprendere. Per entrare nel radio dei cieli bisogna lasciarsi meravigliare. Nella nostra relazione con il Signore, nella preghiera, domando, ci lasciamo meravigliare? O pensiamo che la preghiera è parlare Dio come fanno i papagalli? No, è fidarsi e aprire il cuore per lasciarsi meravigliare. Ti lasciamo sorprendere di Dio, che Dio è sempre il Dio delle sorprese. Perché l'incontro con il Signore è un incontro vivo, non è un incontro di museo. È un incontro vivo e noi andiamo alla Messa, non a un museo, andiamo a un incontro vivo col Signore. Tornare ad avere il gusto, la gioia, la meraviglia della vita è possibile anche di fronte a tante tragedie, ha domandato il Papa, che ha risposto, sollecitando i fedeli, ad alimentare il desiderio di rinascere dall'alto e di ricominciare, senza perdere mai di vista la propria vita spirituale.